...di poter approfondire e fare anche più parti, andare più nello specifico, se c'è un interesse particolare. Quindi sia per questo studio, sia per l'eutanasia che in programmazione, sia sullo studio dello Spirito Santo, essendo studi che comunque si può ampliare veramente tantissimo, se c'è un feedback positivo verso questa, diciamo, richiesta, assolutamente si può fare. Intanto l'obiettivo di questo corso è parlare di cos'è il discepolo secondo la Bibbia senza censurare quello che Gesù dice, perché molte volte c'è la censura, ovvero non si dicono alcune cose perché è come se noi dovessimo creare dei seguaci di Dio senza che sappiano che il prezzo del discepolato è un prezzo che a volte è anche alto. Infatti Gesù dice prendete la mia croce e seguitemi. Sicuramente e per certo è un percorso pieno di benedizioni, ma non possiamo censurare la parte della teologia della sofferenza, non possiamo censurare la parte della solitudine, la parte dei fallimenti, perché tutto ciò è fondamentale affinché noi diventiamo dei discepoli, dei soldati di Cristo, altrimenti saremo delle persone viziate, delle persone abituate ad avere tutto e subito, non è biblico. Quindi lo studio di adesso sarà uno studio panoramico, fatto in franchezza, citando proprio quello che la Bibbia dice. E tramite questo studio possiamo subito riconoscere se la nostra vita, la nostra posizione è verso il discepolo oppure se siamo dei fan, ovvero degli ammiratori. Poi spiegheremo la differenza. Innanzitutto capiamo che cosa vuol dire la parola discepolo. Noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta, l'Antico Testamento, in ebraico, alcune parti in aramaico, ad esempio la parte dove Daniele profetizzava per i popoli che non era Israele, profetizzava in aramaico, scriveva in aramaico, no? E il Nuovo Testamento è in greco. Quindi il termine ebraico di discepolo è Talmid, che significa colui che studia. Il termine invece greco di discepolo, quindi quello che troviamo nel Nuovo Testamento, è Matetes, che vuol dire studente, allievo, apprendista, un seguace. E questo seguace ha una relazione con chi? Con un insegnante. Se devi imparare un mestiere, concedetemi questo esempio che è veramente molto banale, però secondo me fa capire, se devi imparare un mestiere, per impararlo devi vivere con quella persona, no? Devi stare, devi apprendere. Se devi fare il fabbro, devi imparare come lavora il fabbro, quindi dovrai metterci le mani su quell'opera, no? Su quel lavoro. E per fare il discepolo devi avere una relazione, innanzitutto con il Signore, che è quella la cosa più importante, e poi con l'opera del Signore. Quindi non si può essere discepoli e non avere parte né nell'opera né avere una comunione, o viceversa, non possiamo avere solo comunione con il Signore e il Signore non mette nel nostro cuore il bisogno e l'esigenza di adoperarsi per l'opera. Il discepolo ha una relazione. Non voglio entrare in merito al termine di relazione, perché anche lì ci sarebbe da dire molte cose, ma, ripeto, studio panoramico che crea però una certa chiarezza. Il discepolo ha un ruolo molto importante. Perché? Perché la stessa Chiesa, lo stesso compito che aveva Gesù, lo stesso regno che Dio ha lasciato sulla terra, perché il regno dei cieli è sulla terra, lo ha fatto tramite il discepolato. E infatti ha dato il grande comandamento, no? Andate per tutti, fate i miei discepoli, no? E questo grande mandato, no? Di andare per tutto il mondo, di, da ogni creatura, no? Andate per tutto il mondo addirittura, si riferisce in tutte le etnie, no? E di riconciliare, quindi abbiamo un ministero di riconciliazione, no? Tutte le creature e farle diventare figli di Dio, tramite il discepolato. E come ci riconosceranno queste creature a noi, o anche gli altri discepoli? Tramite l'amore. Quindi Dio ha lasciato un compito, un mandato, e ha lasciato anche dei segni di riconoscimento. Quindi il riconoscimento è l'amore, e il frutto è la riconciliazione. Quindi il discepolo che chiama delle creature tramite la potenza del Vangelo, questa potenza del Vangelo che ha potere di rimettere i peccati e quindi di poter dire Gesù ti ha perdonato secondo ciò che lui ci ha insegnato, che noi sappiamo che quando una persona ha confessato con tutto il cuore si è ravveduta, e questo è il significato di rimettere i peccati. Attenzione, perché solo Dio perdona. Quindi questa frase viene molte volte fraintesa, anzi alcuni enti religiosi proprio fanno un abuso di questa frase. No, noi parliamo della potenza del Vangelo e attenendoci a quella potenza, quindi attenendoci a quella verità, possiamo dire che Gesù ti ha perdonato. Perché Gesù ci insegna che il perdono avviene quando ci sono determinate caratteristiche, quando c'è una confessione, quando c'è un ravvedimento, quando c'è un'accettazione, quando c'è un abbandono del peccato. Quindi questo è quello che fa il discepolo. Quindi vedete che compito importante che noi abbiamo. Ci sono compiti che facilmente possono essere fraintesi, perché si può passare da un eccesso di non fare nulla a un altro eccesso di sentirci noi Dio, di perdonare, di legare, assolutamente no. Lo Spirito Santo, quando leggiamo la Bibbia, ci farà capire passo per passo dove è la via che noi dobbiamo seguire. È proprio Gesù che è la via. E quindi non ci farà fare cose che non sono pertinenti, diciamo, alla nostra chiamata. Quindi questa breve premessa è fondamentale per capire che il discepolo ci è sempre stato, che è la chiave con cui Dio ha deciso di mandare avanti il suo regno, che viene riconosciuto tramite l'amore e che ha come frutto la riconciliazione con il Signore. Quindi vediamo che Dio ha pensato a tutto. È il discepolo che poi ha anche accesso tramite il rapporto personale, no, con la persona dello Spirito Santo, anche ai doni e ai ministeri. Quindi sappiamo che i ministeri li dà Gesù, quindi questa Ecclesia, questa Assemblea dei Santi, questo corpo che si creerà, questi insiemi di discepoli, non sarà nell'anarchia, ma sarà in un ordine teocratico che non è né democrazia e nemmeno dittatura. È un ordine basato sulla legge biblica, quindi un ordine teocratico. Nel mondo antico il termine discepolo, quindi, era molto capito. A differenza di quello che è nella nostra società odierna, nel mondo antico si sapeva che il discepolo era un seguace o devoto, quindi c'era una persona che seguiva un leader, che poteva essere religioso, che poteva essere anche un insegnante di filosofia, anche i filosofi avevano i loro discepoli. E nel cristianesimo, scusate, nel cristianesimo il termine discepolo indica colui che è devoto e seguace di Gesù. Quindi bisogna tenere presente, ed è fondamentale capirlo, perché è su questo termine che si sta creando molta confusione, voluta, perché ricordate che la comodità è uno spirito che si sta innescando nella vita di molti credenti, che porta a pensare che l'essere discepolo può essere fatto anche in maniera non attiva, ma il termine discepolo è una persona che è devota, quindi una persona che si impegna attivamente per incarnare appieno quelli che erano gli insegnamenti, cioè devi imitare lo stile di vita dell'insegnante, cioè per essere discepolo devi seguire, non si può essere un fan, cioè non puoi essere un ammiratore che è entusiasta, che si sede sugli spalti e tifa, no, perché molti purtroppo fanno questo, no, mi ricordo quando ho iniziato il percorso della fede mi spiegavano che c'erano i ministeri della finestra, i ministeri del balcone, i ministeri della sedia, ovvero quelle persone che accettando Gesù sono rimasti fermi ad osservare, quindi fanno il tifo, fanno il tifo ma non è mai all'interno della partita, cioè non è mai all'interno dell'opera, quindi non suda nel campo, non rischia mai di prendere una gommitata da un avversario che poi, concedetemi questa, apro e chiudo parentesi, la gommitata la prendono comunque dall'avversario, solo che non hanno un protettore, perché quando noi siamo innestati nell'opera abbiamo una protezione piena, perché noi diventiamo preziosi per il Signore, perché siamo parte attiva del suo regno, quindi non crediamo che perché noi ci adoperiamo al Signore e quindi possiamo avere, come dice Pietro, un incendio che divampa, allora quasi quasi mi conviene che io non sto nell'opera, no, comunque la tempesta arriva, stare nella barca con Gesù farà tutta la differenza, ma il fan non ha questo interesse, perché il fan vuole urlare, fare il tifo, quindi vedi magari che ha una conversione emotiva o letteraria, ma non ha una conversione spirituale, perché appena gli viene richiesto di fare qualcosa, non dall'uomo, ma dallo Spirito Santo, da Gesù e da Dio, quindi di entrare a dare il suo sacrificio, noi siamo sacrifici viventi, dice la Bibbia, allora loro si fermano, quindi va bene, faccio quello che devo fare, ma non mi chiedere nulla. E questo porta poi piano piano anche, nei casi un po' più diciamo eclatanti, addirittura a fare svanire presto quello che è stato l'esperienza col Signore, perché essendo una passione emotiva o letteraria, col tempo vola via, non c'è stata un'esperienza, un ravvedimento spirituale, il ravvedimento deve coinvolgere tutto il lato del nostro corpo, deve essere un ravvedimento spirituale in primis, deve essere anche emotivo, perché è bello quando Gesù ti tocca, e deve essere anche letterario, che devi capire, come dice la parola di Dio, che quello che fai lo devi capire, devi dare un valore a quello che fai, ma ci arriveremo anche lì. Quindi questa parte qui è giusto per capire che se non hai mai fatto parte dell'opera di Cristo, se non stai facendo nulla per l'opera di Cristo, magari non sei proprio un discepolo, perché non stai seguendo il Signore, il Signore dà delle indicazioni e le vedremo molto chiare su chi è il discepolo, e magari ritrovi ancora nella posizione di fanne, o, peggio ancora, di inconvertito. Dico peggio perché non hai nemmeno la conoscenza di andare a Gesù e chiedere perdono. Quindi, e ovviamente, prima di affrontare un po' il tema del discepolo, bisogna fare una premessa che chi è fan, e lo è soprattutto da tanto tempo, questo parlare di Gesù, ripeto, non è il mio parlare, io sto riportando, sono un portatore di verità, come tutti i fratelli in Cristo, gli risulterà un parlare duro, perché quando tu chiedi un sacrificio vivente, quando tu chiedi di portare la croce, se una persona non ha veramente dato tutta la propria vita al Signore, gli diventerà difficile. Allora, apro e chiudo parentesi, essere discepoli non è semplice, se no il Signore non ci avrebbe dato tutto quello che ci ha dato, di ministeri e doni, di amore, ma allo stesso tempo dobbiamo essere coscienti che non possiamo essere nell'omertà, cioè di far finta che può andare bene e non fare nulla. Questo la Bibbia non ce lo dice. Andando avanti, ripeto, differenza, penso che l'abbiamo capito, tra fan e discepolo, e la Bibbia ci avvisa anche, ed è una parte dove voglio creare un po' di suspense, ma chi è discepolo, chi ama Gesù, non se la crea, anzi, proprio mentre ascolta queste cose e ringrazia il Signore che tutto quello che sta facendo non lo sta facendo in vano, perché è pienamente convinto che Gesù ricompensa, però è giusto citarlo, che molti si stupiranno quando Gesù dirà io non vi ho mai conosciuto, perché in Matteo al capitolo 7 Gesù parla proprio di questo, dice che un giorno dove ogni persona comparirà, perché ci presenteremo, anche i salvati si presenteranno davanti al trono bianco per le proprie opere, no? Non è per la salvezza, perché i salvati sono salvati per grazia, la grazia ha un frutto però, quindi se sei salvato per grazia, la grazia è in te, l'amore di Dio è in te, e l'amore è ubbidire i comandamenti di Gesù, quindi non è che la grazia ti fa essere fannullone o pigro, perché sennò si contraddice tutta la Bibbia, no? La grazia ti porta a fare determinate compiti, opere, come le chiamano Giacomo, e proprio tramite la grazia che tu compi le opere e dimostri la tua fede, e li fai con uno spirito non di devo farlo a che fatica, no? Come scritto nel libro di Malachia, che Dio comunque era molto arrabbiato di questa cosa, di questo servizio, no? ma lo fai con uno spirito di entusiasmo, io sto servendo il Signore, sì, sto aiutando l'opera, sì, sto aiutando il mio fratello, sì, sto aiutando una persona che mi odia, sto aiutando un collega che non mi può vedere, va bene, ma io sto servendo il Signore, ed è questo che la grazia fa, ti mette questo entusiasmo, e se non c'è la grazia in noi, quindi se non siamo giustificati secondo la parola di Dio, quindi secondo la morte di Gesù e la resurrezione di Gesù, il rischio reale, quindi non è una possibilità, è che se non abbiamo la grazia in noi, non abbiamo la giustificazione per fede, Gesù ci potrà dire a questo giudizio che noi dovremmo affrontare, non ti ho mai conosciuto, allontanati da me, Matteo capitolo 7, quindi non prendiamo alla leggera il fatto che essere discepoli è un qualcosa che ci deve coinvolgere in tutta la nostra vita. Essere discepoli, allora, innanzitutto per essere discepoli ci deve essere una chiamata, ci sono delle chiamate specifiche che sono le chiamate al ministerio, che molti, ad esempio quando Gesù dice sono io che ho scelto voi, no, che avete scelto me, molti condividono il fatto che quella sia una chiamata al ministero, quindi essere discepolo, essere apostolo, essere un pastore, i cinque ministeri che dà Gesù. Ma, sempre nella Bibbia, c'è scritto che Gesù dice quanti il Dio me li manda, quindi Dio Padre che manda a Gesù, quindi ci sono sempre i chiamati. e ancora in Atti 2,39 c'è scritti e per quanti ne chiamerà, quindi la mia domanda ci sentiamo chiamati? Quindi tutti siamo chiamati da Dio perché Dio non ci abbandona, anzi Dio ci viene a cercare e a prendere proprio quando siamo malati, cioè siamo nel peccato, ci viene a chiamare per salvarci, infatti in Marco 2,17 c'è scritto io non sono venuto per chiamare i giusti, che poi i giusti non sono, sono convinti di esserlo, ma i malati. Quindi lo stesso Gesù mette in chiaro che comunque lui ci cerca e quando ci cercherà e quando ci ha cercati per chi ha già avuto l'esperienza ci chiama non ad essere come quelli che mangiavano e bevevano e lo seguivano per quello, perché a un certo punto Gesù quelli li ha mandati via in un certo senso, no? perché il suo parlare era duro, ma gli ha detto la verità, voi siete dei fan, voi mi seguite perché vi do da mangiare e da bere, soddisfo i vostri bisogni diciamo fisiologici, primari, c'è entusiasmo, ma non siete veramente i miei discepoli. Invece no, noi dobbiamo seguire Gesù per quello che costi quello che costi. Quindi ti senti chiamato? Se hai accettato il Signore sei stato chiamato, se non hai accettato del Signore, oggi, anche se è uno studio biblico, sappi che questa parola ti sta dicendo proprio questo, che Gesù ti chiama e non ti chiamerà per tenerti da parte in una sediolina, fermo lì, per essere di bella presenza quando entrano in chiesa, dicono, guarda che bello quel fratello, quella sorella, no, 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 ti chiamerà per essere uno strumento potente, per emanare il profumo soave di Cristo. Questo è quello che fa il Signore, ed è la cosa più bella che il Signore possa fare nella nostra vita e renderci utili per l'opera Sua, partecipi, essere adottati, e se Gesù a dirlo è veramente onorevole essere chiamati veramente parte del Suo Regno. Gesù usa tre analogie per descrivere i Suoi discepoli. vado veloce perché non voglio stancarvi, però veramente come vi dicevo è un argomento molto vasto e voglio cercare di lasciarvi quanto più possibile. Ripeto, se poi volete approfondire ci sono tanti temi che possiamo approfondire perché veramente è un argomento molto molto vasto. Ci sono tre analogie che Gesù usa per descrivere i Suoi discepoli. Quindi, innanzitutto è Gesù che sta parlando. Quindi quando parla a Gesù non possiamo dire è un libro poetico va interpretato è un libro narrativo invece è un libro normativo allora sì però era l'Antico Testamento non è il nuovo fermiamoci. Quando è Gesù a parlare dobbiamo partire da un presupposto che la cosa sta così. Non puoi applicare che è un libro narrativo quindi non ha valenza di norma che è un libro dell'Antico Testamento siamo sotto nuovo patto anche se pure lì posso tranquillamente confermare che non è stato abolito nulla deve essere tutto riapplicato al nuovo patto ma lo stesso Gesù dice che non sono venuto per abolire ma per adempiere quindi no però non voglio aprire altre parentesi ma per dire che comunque quant'è Gesù a parlare è così se sei un cristiano e discepolo quant'è Gesù a parlare puoi stare tranquillo che non c'è interpretazione ermeneutica no? né seggesi da fare è così no che il resto della Bibbia si possa veramente speculare perché comunque lo Spirito Santo il vero scrittore è per me gli altri sono i nostri fratelli no? che siano epistole che siano profeti sono i redattori a me piace vederla così che l'autore rimane lo Spirito Santo quindi comunque è sempre Dio che mette la sua parola va bene comunque Gesù usa tre analogie per descrivere i discepoli la prima è che ci identifica come il sale della terra sappiate che l'unico modo per rendere inutile il sale è quello di lasciarlo scusate a lungo all'aria aperta perché diventa insipido se il sale è insipido perde la sua funzione quindi se noi ci contaminiamo e ci conformiamo a questo mondo siamo inutili perché non possiamo fare la differenza non possiamo dare a questo mondo il gusto di Cristo quindi attenzione all'eccessiva tolleranza che possa veramente contaminare la nostra vita noi non dobbiamo essere settari ma non dobbiamo nemmeno dimenticarci che su alcune scelte non solo dobbiamo discostarci anche se c'è un prezzo da pagare ma dobbiamo anche denunciare quella cosa quindi facciamo attenzione la luce del mondo la seconda analogia che Gesù usa è che noi siamo la luce del mondo quindi abbiamo un'utilità in questo mondo ma per essere tale non dobbiamo nasconderci perché se noi ci nascondiamo e ci vergogniamo del Signore Gesù dimmi dimmi che utilità hai accendi una una candela e poi la metti all'interno di un armadio non serve anzi se poi non arriva più l'ossigeno quindi non soffia più l'aria quella candela si spegne pure e noi viviamo per il soffio di Dio per la rua per quello che è il suo santo spirito quindi dobbiamo veramente andare sempre alla ricerca dello spirito di Dio ma con la finalità di essere utili all'opera ci definisce anche con l'analogia di una città posta sopra un monte per essere una città posta sopra un monte quindi una città sicura una città ben visibile una città che comunque si allontana dei rischi che possano essere nelle città di valle no delle frane gli allagamenti tutto quello che può comportare vivere nella valle o comunque non essere in altura bisogna che noi ci viviamo ci viviamo in questa città che siamo residenti di questa città come possiamo noi essere posti in una città sopra un monte quindi protetti se manco noi viviamo in quella città se a noi stesso piace vivere in valle a Sodoma quindi mi raccomando queste tre analogie ricordatevi sale della terra luce del mondo e una città posta sopra un monte questa analogia perché vi dico di ricordarle perché sono tre aspetti che identificano un po' l'influenza che noi avremmo con gli altri che avremmo con il mondo perché il nostro parlare le nostre azioni testimonieranno di noi e potremmo avere veramente un impatto positivo conducendoli veramente alla verità ma non a parole molte volte la testimonianza è più importante e a me è capitato diverse volte viverlo perché parlo poco soprattutto con le persone che non conosco mia moglie dice sono antipatico a tratti in realtà no sono una persona che comunque studia un po' gli ambienti dove mi trovo negli ambienti nuovi quando conosco le persone poi non mi fermo più di parlare e studio gli ambienti mi piace capire dove mi trovo dove non mi trovo ma quando la tua vita testimonia di Cristo noteranno che sei una persona paziente che sei una persona che va in amore con prezione tempo e ti ritrovi magari a dover fare percorsi dove comunque ci sono tante persone e che però tu fai una differenza è capitato ad esempio recentemente che magari vengono a chiedermi delle persone in ambienti magari ospedalieri di pregare per loro e questo avviene perché sei una testimonianza hai una credibilità ambienti ospedalieri non parlo del mio lavoro parlo purtroppo di ambienti che sto frequentando per altri motivi e ti chiedono nei momenti di bisogno magari che hanno avuto come è successo in questo caso notizie brutte per i propri figli prega per me perché succede questo perché devi dare una testimonianza se non hai credibilità anche a me è capitato spesso di chiedere ai fratelli fratello prega per me anche se non ho un rapporto intimo con quel fratello magari ci siamo incrociati ci siamo incontrati ma riconosco che quel fratello è un figlio di Dio e lo sento anche nello spirito a me mi fa veramente piacere se il fratello prega per me anzi io sono di un'umiltà che sono io stesso che lo vado a chiedere fratello prega per me ho questa situazione ti va di pregare insieme e Dio ci insegna questo pregate gli uni per gli altri ma per creare questo questo rapporto ci deve essere la testimonianza se no non siamo credibili quindi le analogie che Gesù ci dice non sono affine a se stessi ma hanno un ruolo hanno anche uno step nella nostra vita perché bisogna passare dal Simone che viveva secondo i suoi modi che parlava senza magari pensare o contare da 1 a 10 a Pietro che era colui a cui era stata affidata a i pasci miei pecore i pasci miei agnelli gli è stata affidata proprio l'opera quindi ma questo step passa attraverso una crescita e questa crescita avviene innanzitutto ricordatevi le tre analogie ma avviene come primo step quindi da Simone a Pietro voglio prendere questo esempio perché è quello più conosciuto è anche quello più che più sconvolge la razionalità umana perché Gesù ha scelto Pietro nonostante l'abbia rinnegato come mai non abbia scelto Giovanni che era il discepolo che amava che era quello che era sempre presente no Gesù quando agisce ci stupisce ma lui vede oltre vede molte volte cose che noi non possiamo nemmeno comprendere perché noi non leggiamo i cuori e non vediamo il quadro completo quindi non ti preoccupare se ti trovi nella posizione di chi l'ha rinnegato ma preoccupata di fare come Pietro pentiti ravvediti come facciamo tutti noi perché tutti siamo peccatori e stai certo che quando c'è un vero ravvedimento quindi abbandoni quella via Gesù è pronto ad aspettarti ti prepara pure da mangiare a livello spirituale qui aveva preparato proprio gli pesci ed è pronto a ristorarti e dopo a richiederti mi ami tu questa domanda io me la pongo sempre nel senso quando ho dei periodi un po' più difficili dove il prezzo del discepolato si fa sentire di più magari da una parte hai la famiglia da una parte c'è il lavoro dall'altra hai la salute dall'altra hai quello dall'altra hai quello ma c'è comunque l'opera che Dio ti ha affidato i giovani gli adolescenti la collaborazione tutto quello che Dio ci ha dato in base a quello che è la chiamata la domanda che mi pongo sempre è come se ci fosse davanti a me Gesù e mi chiede mi ami tu? provate quando avete un periodo dove vi pesa fare quello che state facendo per il Signore fatevi questa domanda ma con un cuore sincero e non preoccupatevi quello che rispondete perché tanto Dio sa ogni cosa parlate al Signore con sincerità a me ha giovato e giova tantissimo quindi il processo del discepolato da passare da Simone a Pietro inizia principalmente da un percorso e un cambiamento interiore parte dal cuore non come organo la Bibbia quando parla di cuore parla come la parte più interiore più importante per certi versi anche se ci dice di non confidare nel cuore perché a volte il cuore è ingannevole soprattutto se non è sotto l'unzione dello Spirito Santo quindi il cambiamento parte dal cuore dall'interno ma piano piano si mostra anche all'esterno come un cambiamento di comportamento di mentalità di stile di vita di fatti quando noi accettiamo il Signore cosa succede? che entra lo Spirito Santo in noi e lo Spirito Santo la persona dello Spirito Santo che è in noi cosa fa nella nostra vita? Crea un frutto il frutto dello Spirito Santo non è un qualcosa che viene come i doni che sono secondo il suo piacimento dove soffia arrivano i doni e allora chi ha dono di quello chi ha dono di discernimento chi ha dono di parlare lingue di chi di profezia no il frutto è una cosa che invece ti devi impegnare tu ti devi impegnare tu e ci devi e devi dare tempo a te stesso di eliminare il retaggio della tua vita quindi farti lavare dal sangue di Gesù per portare i frutti dello Spirito Santo non entro in merito perché faremo proprio uno studio su questo ma è buono che il discepolo sia equilibrato quindi non può essere solo carismatico quindi avere solo i nove doni dello Spirito Santo ma deve anche fruttare dello Spirito Santo e il frutto dello Spirito Santo è visibile no? è un po' l'RX che fai e che facciamo a noi stessi no? perché il frutto è amore gioia pace pazienza penevolenza bontà fedeltà manso etudine autocontrollo no? e su queste cose dice la Bibbia non c'è legge però a controporsi a questo c'è l'opera della carne un'opera che è molto più diciamo immediata con la fornificazione con l'idolatria ci siamo cresciuti e quindi ci viene più naturale invece il frutto va contro la nostra natura umana e quindi va lavorato nel senso va fatto lavorare dal Signore è molto bello l'esempio che fanno alcuni studiosi prendendo come raffigurazione lo Spirito Santo come una colomba no? e parlando di questo dicono che la colomba da un lato c'ha il frutto dello Spirito Santo no? con gioia amore pazienza quindi con nove punte d'ali e dall'altra parte invece ci sono i nuovi carismi no? ed è molto bello perché dà un senso di equilibrio tra il carisma e il frutto dello Spirito Santo e questo permette a noi diciamo di speccare il volo infatti la Bibbia parla che noi dovremmo spiccare il volo come aquile no? è un po' un aforismo però penso che l'idea la dia un po' del fatto che per crescere ed essere in armonia non possiamo essere come i Corinti e quindi essere e pensare che parlare in lingue ci completi ma vivere anche con la consapevolezza che dobbiamo fare un cambiamento anche della nostra persona un discepolo quindi abbiamo detto che è una persona che ha una relazione profonda con Gesù e di condurre altre persone a Gesù il tutto quindi inizia abbiamo detto da una parte interiore nello specifico se vogliamo contestualizzare con la lettura c'è Romani 10 9 11 primo Timoteo 6 12 ebrei 3 1 ebrei 4 14 dice proprio che la tua dichiarazione è che devi chiedere a Gesù di diventare il tuo signore e salvatore mi è piaciuto molto questa parte perché non possiamo fermarci a chiedere a Gesù di essere solo il nostro salvatore cioè mi hai salvato però la mia vita me la amministro io no devi essere anche signore della mia vita e quindi facciamo attenzione non fermarci solo a dichiarare che Gesù è il nostro salvatore e ci fermiamo lì sempre il signore deve diventare anche il nostro signore Gesù deve diventare il nostro pastore che ci guida se no questa dichiarazione è mancante da una parte quindi dichiarare Gesù salvatore della nostra vita perché così è ci ha salvati Gesù e ci ha dato autorità nel suo nome ma allo stesso tempo noi siamo vincolati a Gesù noi viviamo la nostra vita non c'è più perché abbiamo siamo morti nella carne e siamo rinati in Cristo e bisogna fare il secondo step che è quello di decidere di seguire Gesù quindi dobbiamo non solo adesso fare una scelta personale ma dobbiamo manifestare questa scelta no ad esempio il battesimo in acqua è una dimostrazione pubblica di quello che è avvenuto nel nostro cuore e qui è come se inizi un po' a definire il tipo di relazione che tu vuoi avere con Gesù perché quando tu sei cambiato interiormente quando tu poi lo dichiari con un battesimo da questo momento in poi tu devi capire che la tua relazione con Gesù deve essere una relazione ufficiale deve essere una relazione che non può essere casuale ma deve essere seria hai fatto un patto e questa relazione va coltivata giorno dopo giorno non possiamo abusare del rapporto che c'è tra noi e il Signore di questo matrimonio è un rapporto che prevede da parte nostra un impegno serio nella pratica e che prevede soprattutto una relazione che va coltivata perché è una relazione che va innanzitutto imparata dal Maestro che è Gesù imparando i suoi esempi i suoi insegnamenti e che noi poi dobbiamo piano piano permettere a questi insegnamenti di cambiare la nostra vita come abbiamo già detto e di produrre un'opera attraverso il frutto dello Spirito Santo come abbiamo detto e far sì che molti le persone ci riconoscono dall'amore che abbiamo verso gli altri discepoli e verso il prossimo quindi colui che ci sta vicino ma in un modo concreto non in un modo quasi concedetemi il termine un po' mertoso no? a dire sì sì hai fame però pregherò per te no no la Bibbia dice che se uno ha fame se uno non ci ha vestiti lo devi aiutare gli devi dare e quindi è questo essere discepoli e porta a condividere la propria fede con altri credenti perché parliamo di Gesù ed è la parola che crea la fede Gesù che crea la fede e che l'alimenta no? e andiamo a parlare anche a chi non crede a Gesù di Gesù proprio perché non riuscimo a trattenere questo essere in Cristo quando nella Bibbia dice chiunque crede in me il termine credere non è un termine come quello che intendiamo adesso no? perché il termine che noi intendiamo adesso è come sì io riconosco che Gesù è figlio di Dio e finisce lì ma anche i demoni riconoscono che Gesù è figlio di Dio loro hanno riconosciuto anche sulla terra e quindi la prima domanda ma siamo sicuri che il credere che intendiamo noi è lo stesso credere che intendeva la Bibbia che in quella traduzione magari non era un credere così blando? perché il credere in Gesù è un inizio di relazione che è destinata per chi ama Gesù a intensificarsi per tutta la vita fino alla fine della propria vita fino a quando non tagliamo il traguardo della nostra vita noi dobbiamo crescere maturare portare frutto non possiamo pensare di vivere il Signore in maniera superficiale un esempio molto bello che voglio parlarvi ad esempio è che è l'esempio di Samuele no? stavo cercando quel verso capitolo 2 versetto 21 e il versetto 26 quindi sfatando il mito che credere non è come intendiamo noi adesso nella nostra filosofia carnale ovvero riconoscere che è così e finisce lì no ci devi credere con tutto te stesso devi avere fede la fede attiva in quella cosa lì quindi mettere tutta la tua vita in quella cosa anche perché i discepoli hanno sempre dato la propria vita per il maestro nel senso l'hanno seguito letteralmente hanno lasciato quello che avevano sia nell'antico testamento che nel nuovo testamento abbiamo tanti esempi no? Elia Eliseo per fare quelli un po' più conosciuti no? dell'antico testamento e i dodici discepoli per fare l'esempio del nuovo testamento ma nella lettura biblica possiamo veramente fare tantissimi esempi che il credere non era una cosa così blanda anche perché se no la bibbia si contraddice come? e anche i demoni credono perché non sono salvati no? capitolo 2 versetto 21 e 26 del libro del primo Samuele mi piace questa parte qua il piccolo Samuele cresceva ed era gradito non solo al Signore ma anche agli uomini e mi piace perché quando noi siamo nelle mani del vasaio quindi che il vasaio ci modella e cresciamo secondo la la mano che il vasaio applica nella nostra vita noi non solo siamo graditi al Signore ma saremo graditi anche agli uomini perché la nostra testimonianza sarà talmente forte che non potremmo essere resi bugiardi non potremmo essere resi contraddittori non potremmo essere resi farsi no? che diciamo tu dici una cosa e ne fai un'altra fermo restando che a volte siamo umani non siamo supereroi e a volte possiamo sbagliare questo non ci deve mortificare ricordiamoci sempre Simone come è diventato Pietro però l'ottica è quella crescere ed essere gradito al Signore ma anche agli uomini come cresceva Samuele? Samuele cresceva in comunione in consegrazione e in ubbidienza infatti verso 19 dice che Samuele non lasciava cadere nessuna parola e la sua crescita era tangibile mi piace il verso 19 perché dice che la mamma ogni anno faceva una piccola tunica quindi ogni anno la mamma gli portava una tunica più grande e quindi la domanda che io faccio nella mia vita ma il Luca dell'anno scorso è lo stesso del Luca di quest'anno mi va sempre la stessa tunica oppure deve cambiare la mia tunica sono cresciuto in qualcosa o magari mi sono rimpicciolito in qualcosa nel senso che magari ho fatto dei passi indietro è un'unità di misura spirituale noi ce l'abbiamo che è Gesù la sua altezza la sua statura ed è un'unità che è irraggiungibile ma a cui dobbiamo noi aspirare e anno dopo anno giorno dopo giorno dobbiamo sempre considerare il fatto che dobbiamo crescere la Bibbia parla sempre di crescere nessuno è escluso pensate un po' che anche Gesù nel Vangelo di Luca capitolo 2 versetto 52 sta scritto che cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini puoi non piacere agli uomini puoi non essere gradito agli uomini perché quando parliamo di uomini possiamo anche parlare di uomini che non sono nella fede quindi in quel caso sei anche perseguitato ma sappi che la tua crescita non può essere nascosta agli uomini vedranno che se tu sei legato al Signore e quindi sei sapiente conosci Dio e ti fai ogni giorno dedichi il tuo tempo a conoscere il Signore crescerai e crescerai anche davanti agli uomini la persona che hanno incontrato il giorno prima al giorno dopo al giorno dopo al giorno dopo sarà una persona diversa e capiterà che ti diranno ah ma in questa cosa sei cambiato adesso ti vedo che hai più controllo adesso non dici più queste cose quindi la crescita è essenziale per avere una buona testimonianza e la crescita parte da alcune scelte che sono importanti la prima scelta è quella di rinnegare se stessi lo dice Gesù infatti Gesù usa il termine quando parla di rinnegare o rinunciare ricordiamo il Nuovo Testamento è greco a parneomai che viene usato proprio per rinunciare cioè rinnegare le proprie priorità quindi devi rinnegare le tue priorità personali in favore delle priorità di Dio e non è una questione di vuoi o non vuoi questo è fondamentale per essere discepolo rinnegare se stesso non è semplice ma Gesù non si è risparmiato nel darti ciò che ti è utile in questo ricordiamo abbiamo doni ministeri promesse abbiamo fatti abbiamo addirittura le promesse del Nuovo Testamento sono scritte che sono migliori di quelli del Vecchio Testamento e quindi pensate un po' quanto Dio ci abbia già dato per poter fare queste scelte e quindi è normale che per essere discepolo già rinegare se stesso è una bella scelta devi rinunciare alle tue comodità alle tue routine che se Dio ti chiama devi rispondere non puoi dire dopo dopo ci prego su alcune cose Dio ti ha già parlato non ci devi perdere tempo con Dio non devi temporeggiare Mardokeo disse a Esther chissà se non sei stato chiamato proprio per questo ma se non lo fai tu lo farà un altro Dio chiamerà qualcun altro tu continua a pregare ma Dio chiamerà qualcun altro però in quello che non fai ne risponderai e ci arriveremo anche lì ai peccati di omissione e come si fa ad addempiere questa parola di rinunciare a se stesso beh per rinunciare a se stessi apre e chiudo parentesi non è semplice fratelli perché tutti cadiamo molte volte nel mettere davanti le nostre incapacità nel mettere davanti magari la comodità io vi devo dare un'impronta diciamo teologica poi è normale che per rendere la pratica dovete avere un rapporto con lo Spirito Santo che lo Spirito Santo vi guiderà in ogni cosa Gesù non ci ha lasciato i orfani però la teologia deve essere fatta chiara e senza censure quindi per seguire Gesù bisogna rinunciare a se stessi devi rinunciare alle proprie paure devi rinunciare alle tue comodità a tutti quegli altarini che ti sei fatto le tue routine prima viene il Signore e il Signore non mancherà di benedirti anche in altre cose perché lo stesso Gesù dice che c'è un tempo per ogni cosa ma se c'è una chiamata che ti riguarda non voltarti dall'altra parte non fare un po' come quelle persone che vedono il bisogno e se ne vanno via noi non siamo chiamati a questo perché il danno che tu farai nel fare questo è grande perché poi quando parlerai di amore la persona che ti ascolta che ti ha visto essere nell'omertà penserà a quello Dio ti ha perdonato se tu ti sei pentito ma la tua testimonianza la tua credibilità farà veramente fatica poi a riacquistare la credibilità di quella persona facciamo attenzione anche quando a volte noi ci sfoghiamo nel parlare andiamo da persone mature nella fede perché se scoraggi una persona che non conosce manco Dio ma tu fai un danno piuttosto fatti 1600 chilometri con la macchina vai da una persona di cui hai un riconoscimento spirituale se vuoi un confronto se magari pregando non hai avuto la risposta che volevi se magari vuoi parlare gira vai dalla persona che magari ti hai evangelizzato non lo so ma fai attenzione a non appoggiarti su chi ancora deve fare il suo percorso non scandalizziamo le anime nuove perché noi dobbiamo essere un esempio e questo non vuol dire essere farsi vuol dire che devi capire dove tu puoi portare quel peso perché più cresci nella fede e più devi essere un filtro le cose che ti arrivano devi filtrarle per non contaminare le anime che devono fare invece la loro crescita molte volte quando si ha un ruolo nella chiesa quasi tutte le cose brutte si fermano un po' a che hanno determinati ruoli e le cose belle invece le condividiamo proprio per proteggere chi sta facendo un cammino verrà il tempo che poi quelle cose puoi condividerle con una persona e io sono pienamente convinto che gli uomini di Dio non sono solo nella nostra chiesa Dio ti darà un fratello ti darà una sorella che tu puoi parlare e potete pregare insieme noi dobbiamo fare nostra una promessa possiamo fare nostra una dichiarazione che in Filippesi 4.13 io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica quindi quando si parla di rinunciare a se stesso non è semplice non siamo infallibili io non è che sono infallibile io sono il primo che ho bisogno di mettermi sotto il sangue del Signore ma se dimoriamo in Cristo lui dimora in noi possiamo dire questa affermazione e crederci quindi credere in maniera attiva non dire lo so no non devi saperlo lo devi applicare nella tua vita e quando lo applichi io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica allora farai giorno dopo giorno un passo in più verso quello che è la tua crescita non paragonarti agli altri fratelli alle altre sorelle la tua crescita è una crescita personale con il Signore Gesù ci invita non solo a rinnegare se stessi ma anche a prendere la propria croce cosa vuol dire noi non abbiamo una croce letteraria come fu per Gesù che si caricò la croce e pagò con la sua vita no ma prendere la croce di Gesù vuol dire entrare nella sua missione entrare nella sua agenda entrare in quello che saremo chiamati ogni giorno a fare quindi non occasionalmente non solo la domenica non quando c'ho voglia oggi non me la sento ogni giorno a fare quello che ha fatto Gesù prendere la croce vuol dire offrire la propria vita per la salvezza di chi non la merita quindi il tuo tempo i tuoi denari i tuoi vestiti quello che Dio ti ha dato se Dio ti presenterà l'occasione di aiutare qualcuno tu hai i beni ma li stai amministrando ricordiamo di entrare nell'ottica che i discepoli condividevano tutto e noi quello che abbiamo ce l'abbiamo perché Dio ce l'ha dato quindi amministriamo no quello che tu hai lo devi condividere perché se no che cosa fai non stai facendo Gesù non stai offrendo volontariamente la tua vita per i peccatori dobbiamo condividere la croce e la croce è questa predicare il Vangelo e vivere non solo per gli amici che Gesù stesso dice non c'è cosa diciamo più importante che morire per i propri amici ma anche per la salvezza degli altri molti evangelisti e missionari sono morti per evangelizzare e hanno dato tutta la propria vita per quello non si sono risparmiati la relazione con il Signore è fondamentale per poter adempiere il passo di prendere la propria croce perché la croce non è solo questo la croce è anche il tramite che ci permette di relazionarci con Gesù è tramite la croce che noi parliamo a Gesù è tramite il suo sacrificio colui che era giusto per degli ingiusti che adesso noi abbiamo la relazione è tramite la croce che Gesù ha pagato e ha compiuto ogni cosa che si è caricato le nostre lividure quindi la croce non vedetela solo come un dare ma abbiamo avuto molto di più che la salvezza eterna non ci sono cose terrene che possono comparare e il terzo passo che Gesù ci dice è di seguirlo quindi rinnega a te stesso prendi la croce e seguimi quindi ti devi muovere non devi essere statico non devi farti la tua zona di comfort la tua zona delimitata io faccio qui io evangelizzo qui no Gesù ti chiama a seguirlo e Gesù ti dirà di seguirlo secondo il suo proponimento tu puoi scegliere di rimanere in un posto ma se in quel posto non ti ha messo il Signore non sarai non nel piano del Signore magari il Signore ti userà in maniera diversa ma il piano principale che Dio aveva per la tua vita tu non te lo stai facendo adempiere perché tu ti sei messo in traccio alcune persone ad esempio possono seguire le proprie passioni noi adesso stiamo parlando del discepolo ma ricordatevi che se non seguite Gesù comunque state seguendo altre cose perché comunque la vostra vita è influenzata è influenzata dai vostri genitori da quello che vi hanno insegnato è influenzata un po' dalla filosofia di vita contemporanea ad esempio nella vita che viviamo adesso c'è molto l'idea prima io prima la mia comodità prima il mio bene prima il mio benessere questa è la filosofia di vita di adesso che si contrappone totalmente al messaggio cristiano e quindi siamo chiamati a seguire Gesù perché se non segui Gesù stai seguendo qualcun altro e molte volte Gesù rivolge questo appello seguitemi e lo fa ancora adesso ancora adesso Gesù dice seguitemi e lo sta dicendo anche adesso per chi non lo conosce se vuoi vedere veramente le cose meravigliose che Dio ha preparato per la tua vita se vuoi veramente vedere cose a cui tu non saprai dare mai una spiegazione perché sono cose impossibili che diventano possibile devi seguire Gesù non stare sugli spalti a vedere la partita giocala gioca per l'opera di Cristo e voglio dirvi un'ultima cosa e poi passiamo un po' alle opere aspetta che vado un po' avanti perché mi sto un po' allungando come conclusione di questa diciamo prima parte la seconda parte prometto che faccio un po' più velocemente come conclusione di questa prima parte vi posso dire che la differenza tra essere un discepolo ed essere un fan uso il termine odierno ma si è sempre usato un termine simpatizzante sono sempre esistiti questi termini perché ci sono sempre stati anche nella nella Bibbia non ce lo nascondo mi viene un po' in mente Agrippa quando gli fa Paolo mi è quasi convinto il quasi credente la differenza lo fa il prezzo del discepolato leggete Luca 14 26 27 che è molto chiaro qui passa avanti ok come dicevo prima abbiamo parlato di Romani 10 versetto 9 e 10 che sta scritto si deve confessare con la bocca che Gesù come Signore e credere nel cuore nell'opera della croce culminata nella resurrezione di Gesù la radice della parola credere in questo caso è seguire ovvero riporre la propria fiducia e qui come vi dicevo prima si è creato un grande fraintendimento sul termine credere perché il termine credere che viene usato qua è pisteu nel greco noi non leggiamo la Bibbia con la mentalità noi di adesso leggiamola con un significato esegetico quindi la Bibbia ricordiamo che non è stata scritta a noi quindi non l'ha scritta a Luca ma è scritta per Luca quindi il termine credere era con il sostantivo pisteu come ad esempio il termine fede e il sostantivo pistis che sono dei sostantivi che vuol dire piena convinzione fiducia è fedeltà quindi fede non è un qualcosa di passivo cioè il senso di fedeltà è un qualcosa che comporta con in maniera pratica il fatto di credere e di accompagnare questo credere quindi questo credo con un'azione fedele Paolo per esempio usa molte volte il termine pistis guarda se vi può interessare vi do un'applicazione che sono molto interessanti sono gratuite poi se volete un po' più approfondito si spaga una è l'accordanza che potete andare a vedere un po' queste terminologie perché veramente cambiare un termine ti cambia anche il significato di interpretare una frase Paolo quando usava il termine pistis lui si riferiva a una credenza a un assenso intellettuale a un qualcosa che lui c'è impiegava tutto se stesso in quello quando si dice che credi nel tuo cuore che Dio lo risuscitato dei morti sarai salvato tu devi avere un'accettazione intellettuale di due affermazioni cioè che Gesù è stato risuscitato dei morti e che Gesù è Signore quindi quello che ci siamo detti prima che non basta solo vedere Gesù come proprio Salvatore lo devi vedere anche come Signore e lo vedi con un'accettazione totale intellettuale quindi ti autoconvinci devi convincere a credere pienamente in maniera attiva che è così e questo è fondamentale vivere Cristo come proprio Signore è fondamentale affinché la nostra vita segui il piano che Lui ha predisposto noi non non è che confessiamo o accettiamo il Signore come se fosse un qualcosa come un rito magico c'erano i romani che all'inizio quando ci fu la prima forma del cristianesimo pensavano che i cristiani era quasi un qualcosa di scaramantico e quindi cominciavano perché era illegale il cristianesimo non era riconosciuto come religione e quindi un po' questa cosa a volte ritorna che pensiamo che facciamo la formuletta sangue di Gesù e perdoni i miei peccati no noi quando confessiamo noi dobbiamo dire con tutto il nostro cuore che la cosa è così devi condividere quella visione ammettere che qualcosa è vero anche il termine che si usa come confessare ma non vi voglio annoiare però è fondamentale per capire che uso diamo adesso al confessare dichiarare ma è così anche al greco cioè i termini che viene usato no nel termine greco che tra l'altro si dice omologeo era dire la stessa cosa di un altro cioè tu dici la stessa cosa di un altro omo io stesso logeo parlare quindi dire la stessa cosa in comune accordo affermare e riconoscere che quella cosa è così quindi tu sei convinto che dichiari confessi che Gesù Cristo è il Signore quindi deve stare nella tua vita la Signoria di Gesù cioè è un termine importante il confessare che Gesù è il nostro Signore e Salvatore che noi a volte stiamo un po' non banalizzando scusatemi stiamo un po' trattando con superficialità ma è un termine che ha un suo valore andando avanti perché voglio andare un po' avanti apro e chiudo parentesi i cristiani del del Nuovo Testamento quando venivano catturati dai romani no? proprio perché non condividevano il cristianesimo li mettevano davanti alla stato dell'imperatore e gli dicevano confessa che l'imperatore è il tuo Dio fai un offerto un profumo quello che si usava a quei tempi no? e te ne vai i cristiani non accettavano questo perché la confessione aveva un valore spirituale importante e infatti venivano perseguitati ci sono stati martiri perché? perché credevano nei termini che si usavano perché non era una cosa così blanda se tu confessavi e tu stavi dando credo a quella a quella cosa è così come dici tu soldato romano o centurione romano invece no non è così Dio è solo Dio il Signore non ci ha mai negato una verità che se noi perseveriamo nella sua parola allora siamo veramente suoi discepoli quindi non è che ci ha detto discepoli una volta discepoli tutta la vita no ho salvato una volta ho salvato tutta la vita no Gesù dice se perseverate nella mia parola allora siete veramente miei discepoli quindi non non banalizziamo quello che Gesù dice sul ruolo dei discepoli anche se non è semplice Gesù non l'ha mai resa semplice dice che nel mondo saremo tribolati non dice se sarete tribolati saremo tribolati la tribolazione la passeremo ma Gesù ha vinto il mondo quindi confidiamo in Dio che in ogni cosa Dio metterà la sua mano nella Bibbia ci sono delle delle chiavi di lettura molto importante per capire se siamo discepoli di Gesù io l'ho chiamati sette se cioè io l'ho chiamati li ho messi in elenco allora sei dimorata nella mia parola quindi bisogna dimorare come abbiamo detto e rimanere in essa mai abbandonarla anche qui il significato greco usa che viene usato significa proprio rimanere stare continuare quindi non è una cosa fatta una volta vale per tutta la vita no è una cosa dinamica se avete se avete amore gli uni per gli altri quindi l'amore non deve mancare non si può fare nulla se non c'è l'amore di Dio in noi perché non capiremo nemmeno quello che stiamo facendo l'amore è il compimento della legge della volontà di Dio l'amore è il segno riconoscibile dei discepoli di Gesù pensate un po' quanto è importante il se avete amore gli uni per gli altri è un compimento della legge è un segno riconoscibile siamo discepoli di Gesù punto 3 se portiamo molto frutto quindi punto 1 se dimoriamo nella parola punto 2 se abbiamo amore gli uni per gli altri punto 3 se portiamo molto frutto infatti come parlavamo prima del frutto dello Spirito Santo ma vado velocemente se no non ci allunghiamo troppo un carattere che non è trasformato non può mai profumare di Cristo quindi per profumare di Cristo ci deve essere una trasformazione punto 4 se odiate padre madre mogli figli fratelli sorelle persino la vostra vita se per essere discepoli di Gesù c'è anche questa parola odiate ovviamente qui il senso dell'iperbole quindi dell'esagerazione che a volte il Signore si usava e si usava in quei tempi è proprio per far capire che al primo posto va Gesù se qualunque cosa ti contrasta nel fare la volontà di Dio ricordati metti davanti Gesù poi è lo stesso Gesù che è l'iddio delle famiglie ci mancherebbe ma ci sono momenti e piani che a volte devi fare anche da solo la relazione che noi abbiamo col Signore deve superare qualsiasi relazione letteraria se Dio ti ha dato un ministerio se tu stai facendo ospitalità e hai difficoltà con dei parenti perché tu stai esercitando ospitalità allora per quel periodo di tempo se interferiscono in quella la chiamata di Dio concentrati in quello che Dio ti ha chiamato a fare non devi odiare letteralmente ma dai precedenza alla chiamata che Dio ha fatto nella tua vita perché quella devi dare conto ricordatevi sempre Mardocchio e Esther quello che tu non fai lo farà qualcun altro ma ci sarà un prezzo poi punto 5 è rinnegare noi stessi e l'abbiamo detto quindi non essere egoisti non essere orgogliosi mettere le priorità di Dio davanti a tutto al nostro tempo le risorse tutto quello che è anche il nostro talento a volte alcune fratelli e sorelle hanno dovuto fare una scelta anche di carriera ricordo che anche a me quando ho accettato del Signore mi sono arrivato tutte le chiamate che ho sempre desiderato mi sono arrivato dopo che io ho accettato di collaborare con la chiesa mi hanno chiamato strutture sanitarie addirittura anche come per fare il direttore della struttura in Sicilia in luogo di mare infatti con con il pastore con mia moglie ne parlavamo proprio di questo che a volte il diavolo ti tenta proprio sui desideri più nascosti no e molte volte devi rinunciare a questo perché poi e posso confermarlo Dio mi ha benedetto veramente grandemente e poi se prendete la croce non puoi servire il Signore senza portare la croce quindi ci stiamo un po' ripetendo se rinunziate a tutto ciò che avete ricordiamo che noi siamo degli amministratori quello che Dio ci ha dato noi lo amministriamo e quindi esercitiamo se Dio ha dato una casa io ringrazio il Signore per il dono che mi ha fatto ma casa mia è sempre stata aperta e lo è tuttora all'ospitalità quindi ho sempre dato la possibilità di aiutare le persone che hanno bisogno e non è semplice ricordiamo sempre che ci vuole l'unzione perché i momenti difficili ci sono ma ho trovato anche benedizione in questo e ricordiamo che Paolo stesso ci insegna che comunque lui è arrivato a una maturità spirituale dove ha imparato a essere contento nello stato in cui si trovava in Filippesi 411 Paolo ci insegna proprio questo che io ero ricco cioè o che ero nella povertà io mi sono adeguato poi ripeto anche qui Dio ci guiderà in ogni cosa perché anche i fratelli ricchi ho avuto possibilità benestanti che veramente hanno amministrato anche bene quello che avevano hanno anche collaborato alla costruzione di chiese c'è un caro fratello che adesso non lo vedo da un po' ma che veramente si è adoperato tanto nel fare le chiese proprio fisicamente e anche lui è stato benedetto in questo perché vi raccontavo le testimonianze che arrivavano i materiali giusti giusti per finire l'opera il tetto il pavimento senza che nessuno li abbia ordinati cioè lui diceva non è possibile io la sera prima avevamo questo impedimento e lì domani si presentavano questi materiali quindi vedete un po' il Signore quanto è grande è quanta benedizione noi prendiamo nel fare perché vediamo cose meravigliose più che nel ricevere quindi anche in questo Dio si usa di noi io a me ne lo direi anche se non è un culto lo direi comunque beh allora abbiamo visto un po' fino adesso quello che è comunque il fare del discepolo la scelta no? ma sappiamo che il mandato è un mandato per tutti perché dobbiamo essere suoi testimoni sappiamo che Dio ci ha chiamato tutte le estremità della terra fino alla fine dell'età presente no? io questa parte vado veloce proprio perché poi ci sarà motivo anche di parlare del discepolato delle evangelizzazioni no? voglio rimanere sul tema del discepolo una cosa molto importante che ad esempio si dà poca importanza ma che Gesù invece ne dava tantissimo perché ha fatto anche delle parabole specifiche come quella del buon samaritano che andavano al tempio o il fariseo e lasciavano la persona ferita a terra però loro andavano a lodare Dio e invece il samaritano si è preso il cuore di questa persona no? è il peccato di omissione il peccato di omissione è un peccato dove praticamente tu puoi fare del bene ricordiamo la parabola le parabole del buon samaritano ma anche quelle dei talenti che Dio ti dà da amministrare da fare tu puoi fare e non lo fai ecco Gesù è molto chiaro ma anche la Bibbia innanzitutto in Ecclesiaste 9.10 ci dice che tutto ciò che la tua mano si trova a fare fallo e lo devi fare con tutte le tue forze quindi non mettere superficialità né pigrizia e manco lamento fallo perché lo stai facendo per il Signore in Giacomo 4.17 c'è scritto chi dunque sa fare del bene ascoltatevi bene questa parte qui e non lo fa commette peccato quindi c'è un peccato nel non fare in Malachia vi consiglio di leggerlo questo capitolo perché è il Signore che parla addirittura questo tipo di servizio che viene fatto a Dio è quasi un disprezzare il nome di Dio sono questi sacerdoti che davano questo servizio capitolo 1 versetto 13 che dicevano che dicevano ah che faticano e davano a Dio un po' lo scarto dei sacrifici degli agnelli dei bue siccome Dio è un Dio immutabile non è che adesso noi sediamo lo scarto della nostra vita delle nostre fidanze del nostro tempo di quello che noi abbiamo Dio è compiaciuto cioè noi a Dio dobbiamo dare la primizia una cosa molto importante non voglio entrare in merito alla decima ma uso il termine che ha usato Gesù ricordiamo che Gesù quando parla quella è la verità in primis se quando parliamo degli atti degli apostoli che condividevano tutto molti dicono beh gli atti è un libro narrativo non è normativo di racconta ma non bisogna fare così se in primo corinzi dice che se ognuno può dare in base alla propria prosperità concessa e quindi ognuno è interpretativo dice beh io gli do questo questo Dio mi ha concesso questo c'è una parte del messaggio di Gesù che è chiaro Gesù quando parla della vedova Luca 21.4 dice una cosa molto importante la vedova non ha messo il superfluo ma il necessario quindi qualsiasi cosa facciamo per il Signore qua si parla di soldi di aiuto ma in linea generale qualsiasi cosa che tu fai per il Signore non farla per il superfluo Gesù non è un hobby ma falla che quella cosa è un necessario per te se parliamo di soldi ricordati che Dio ti ha dato una prosperità onora la prosperità che Dio ti ha dato per l'opera sua se tu riconosci che la Chiesa dove Dio ti ha innestato è una Chiesa che fa parte dell'opera di Dio quindi che aiuta i poveri che va a prendere i bisognosi che comunque ha da mantenere anche il local che comunque ha tante cose e tu vedi con i tuoi occhi e tasti che c'è un ritorno alle persone bisognose alle anime che arrivano è un rifugio allora applica quello che la Bibbia dice perché il buon discepolo è una parte attiva dell'opera non è un fan quindi ricordatevi bene questo insegnamento perché su questa cosa ci sono tanti pareri ma io parto sempre da questo presupposto il necessario devo dare al Signore non il superfluo quindi quando si parla di tempo di vita di bene di lodi il necessario poi la Bibbia ci insegna andando sempre più nello specifico di amare il prossimo e uno dice ma chi è il mio prossimo e il prossimo è quello che è vicino a te abbiamo detto nella prima parte è vicino a te e quindi non puoi essere l'eremita sulla colonna c'era pure questa corrente anticamente che facevano gli eremiti sulla colonna perché tu devi aiutare il prossimo come fai a evangelizzare a testimonare di Cristo se ti isoli devi avere l'ottica che devi vivere e devi avere contatto con il prossimo andiamo avanti bisogna vedere Gesù negli altri molte volte quando vediamo dei fratelli o delle sorelle o anche persone che sono diciamo contro di noi che magari ci mettono in condizione di avere veramente una difficoltà nel relazionarci con loro deve partire da un presupposto vedi Gesù perché Gesù quando ci ha chiamati noi eravamo peccatori quindi noi dobbiamo usare la stessa misura di perdono che Gesù ha usato con noi anche perché nella misura in cui noi perdoniamo verremo perdonati no? quindi facciamo attenzione a vedere gli altri con i loro limiti a giudicare perché poi la Bibbia è chiara no? e poi ci dà sempre le indicazioni no? che anche nel fare bene bisogna fare bene da chi? beh la Bibbia ci dice Romani 12-13 in Galati 6-10 fai del bene ai credenti in Romani 12-13 quindi comincia dai credenti e in Galati invece 6-10 dice fai del bene specialmente a quelli in fede quindi anche qua Dio con la sua parola ci dà proprio delle indicazioni graduali e ci dice che comunque le nostre opere quelle che noi esercitiamo quindi questo bene che noi faremo dobbiamo farlo dandogli un valore spirituale quindi adesso stiamo alzando un po' l'asticella di conoscere il ruolo del discepolo facendo un piccolo riassunto quindi siamo passati da chi è il discepolo quindi differenziarlo dal fan a quello che Gesù dice per essere discepoli quello che devi le caratteristiche che deve avere il discepolo le scelte che deve fare le opere che deve compiere il discepolo e il modo come deve compiere le opere quindi non facendo le cose in maniera superficiali non superfule ma dando il necessario quindi pagando un prezzo adesso entriamo proprio nell'ottica di dare un valore a quelle opere un valore spirituale quindi innanzitutto in Colossesi 3.20 dice che qualsiasi cosa che voi fatela fate fatela per il Signore e in Efesini 5 15 17 dice che quello che fate lo dovete fare capendo il vero senso e il valore per intendere la volontà di Dio quindi non facciamo le cose senza capirle in Efesini 5 15 17 ho parafrasato ma andate a leggerlo dice che bisogna fare le cose dando un senso e un valore in modo che noi possiamo intendere la volontà di Dio quindi perché Dio ci fa fare queste cose perché Dio ci sta portando in quella strada e molte volte c'è la domanda questa domanda più comune che viene fatta ma io non so quello che Dio vuole nella mia vita e non so quello che devo fare ma Dio non mi ha chiamato non sento una chiamata ci può stare e io ti consiglio di leggere la lettera dei Romani capitolo 12 versetto 2 che dice conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio quindi nel frattempo che tu non hai ancora capito quello che devi fare per il Signore intanto Dio ti farà conoscere per esperienza quindi intanto tu fai quello che la tua mano può fare ricordatevi i peccati di omissione quindi fai quello che la tua mano può fare fallo con tutte le tue forze con tutto te stesso in maniera onorevole e vedrai che mentre che tu fai questo mentre che tu dispendi dispensi scusatemi alle menze magari sarei chiamato a fare il diacono no? mi viene in mente Stefano o magari Dio ti darà altre cose da fare perché le opere sono fondamentali per dare per rendere testimonianza di una fede viva che Giacomo dice che le opere senza che la fede senza le opere è morta e poi le opere sono fondamentali perché ripeto da veracità alla nostra fede saremo giudicati eternamente in base alle nostre opere servono per dare gloria a Dio sono un cardine fondamentale no? per disporsi a un servizio senza le opere veramente siamo morti la nostra fede è morte andando avanti perché se no vi allungo troppo e non voglio più stancarvi pensavo anche di finire prima in realtà essere discepolo quindi ha un ruolo l'abbiamo capito no? quindi non c'è disoccupazione non c'è non ci sono fannulloni non ci sono pigri ma un'attenzione molto importante questo messaggio è più per quelli che sono un po' più avanti nella fede perché tu puoi essere un aiuto o un ostacolo nell'opera di Dio ascoltatemi bene in questa parte qui se sei un discevolo che comunque hai conoscenza quindi hai vissuto per tanti anni leggi Primo Corinzi 8 capitolo 8 versetto 9 e 13 è Paolo che parla dicendo ma se qualcuno vede te che hai conoscenza che ti siedi al tavolo degli idoli dice ma non sarà tentata anche uno un po' più meno in fede nel farlo attenzione a quello che noi facciamo si collega un po' al discorso anche del fatto di non aprirsi in critiche mormorie soprattutto con le persone nuove perché creiamo un inciampo a una persona che sta facendo un percorso se qualcuno vede te che hai conoscenza attenzione che noi possiamo veramente creare un danno all'opera di Dio bisogna essere di buona testimonianza e non peccare contro Cristo leggete anche Atti 22 12 e Primo Timoteo 3 8 13 noi non dobbiamo distruggere quello che Dio ci ha dato per un'opera della carne no un'opera della carne come essere arroganti e avere per forza la ragione avere per forza la sì tu sei bravo in Romani 14 20 c'è proprio questo non distruggete per cibo l'opera di Dio facciamo molta attenzione lì c'è anche un significato letterario no perché molte volte dovevi fare attenzione a mangiare la carne rispetto a un fratello perché c'era ancora chi era legato al giudeismo l'altro fratello magari non era concorde no perché diceva ma il Signore mi ha salvato non sono più sotto la legge però facciamo attenzione perché comunque come parlavo dei comandamenti che vengono riapplicati noi dobbiamo fare attenzione di non scandalizzare una persona solo per un qualcosa che noi potremmo evitare non scandalizziamo cerchiamo di trovare sempre la via spirituale in modo da edificare e non da distruggere poi su questo punto ci arriveremo anche perché faremo un argomento proprio sulla testimonianza quindi avremo un carattere modellato dallo Spirito Santo vado avanti l'esempio di Pietro una vita disciplinata siamo portatori di frutti ripieni di Spirito Santo l'abbiamo detto nel nostro percorso ricordiamoci sempre che non siamo chiamati solo a scegliere tra il bene e il male molte volte siamo chiamati tra scegliere tra il bene e il meglio quindi devi fare di più Romani 12 1 2 e per fare questo devi avere una bussola per seguire questa via del discepolato devi avere una bussola e la bussola infallibile è la parola di Dio leggete Salmo 43 versetto 3 Salmo 119 versetto 105 e in questa lettura di bussola che a volte la bussola va interpretata no? ricordate che c'è un accompagnatore divino che è lo Spirito Santo questa persona che dimora in quanti hanno accettato Gesù Cristo come personale salvatore e Signore vado avanti ok l'altro punto importante è che in ogni cosa Dio ci chiama un ordine anche nel fare c'è in Atti 6 versetto 2 no? c'è una frase che mi ha sempre colpito dice non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alla mensa allora presumendo che stanno parlando i discepoli quindi una certa autorità ma se uno parlasse adesso diceva vabbè tu vai a predicare però non aiuti a a dispensare alle mense il concetto fondamentale non è che è onorevole o non onorevole uno piuttosto che altro anche se i ministeri sono ambire i ministeri diceva o è onorevole ci mancherebbe la cosa più bella potrebbe essere dire Signore ma il concetto è che noi non possiamo fare tutto perché rischiamo di fare tutto ma farlo tutto in maniera superficiale in maniera magari non accurata di non dedicare tempo e ordine ai ruoli che Dio dà alle opere che Dio ci chiama a fare e per questo che la volontà di Dio è il percorso che dobbiamo fare deve scegliere lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è che dirà mettetemi da parte ovviamente quando hai chiamato Paolo e Barnaba mettetemi da parte quindi ognuno avrà il suo ruolo se questo ruolo ancora non l'hai sentito inizia inizia a fare dove c'è bisogno ma stai tranquillo è certo che Dio ti chiamerà e ti chiamerà per fare la sua volontà non per fare tutto noi dobbiamo capire bene quello che il Signore vuole nella nostra vita perché ci sono tanti ruoli che noi possiamo fare per il Signore che non sono solo i ministeri non è solo il pastore l'evangelista no ci sono i ruoli come persone fratelli come Tabita che lo chiamano la gazzella leggete Atti 9.36 che sono tutto un elenco di nomi Tabita era conosciuto perché era abbondante in opere buone nell'emosina quindi era un discevolo di Dio come si adoperava per il Signore in opere buone dell'emosina si parla anche di Febe la diaconessa lo leggiamo in Romani 16.1 che era una persona disponibile e che ha prestato proprio assistenza personale a tante persone ma anche a Paolo che lui stesso scrive abbiamo le opere dell'ospitalità che tanto disturba a molte persone creare quest'opera ma è un'opera importantissima e Paolo parla di Aquile e Prisca che dice addirittura che hanno rischiato la vita perché comunque ospitare una persona che predicava il cristianesimo che non era diciamo una religione conosciuta riconosciuta dallo stato romano cioè era un problema eppure hanno rischiato la vita chissà quante cose hanno fatto per Paolo e per l'opera del Signore e poi sempre i Romani 16 e i 6-16 ci sono tante persone che vengono citate Maria Androni ora non mi ricordo tutti ma sono tutti discepoli che si sono affaticati e impegnati e la parola di Dio ce li ricorda quindi ci sono tanti modi per servire il Signore e tanti modi che il Signore non vuole che noi applichiamo la pigrizia il superfluo la svogliatezza la lamentela il mormorio lasciate stare queste cose anche perché quando diventerete discepoli ci sarà una continua battaglia tra il frutto dello spirito e le opere della carne c'è una battaglia quindi sappiate che poi in questa battaglia però c'è il Signore che vi aiuta a combattere non siamo da soli e poi qui parla avevo fatto un piccolo accenno un po' per discendere la chiamata no? io direi che l'unica cosa che vi voglio dire perché ci siamo allungati troppo ripeto è uno studio che potrebbe essere approfondito molto di più ma va bene così è che quando Dio ti chiama ti chiede quello che hai Dio non ti chiede quello che non hai nel senso se tu sai di avere dei limiti Geremia dice io sono solo un ragazzo e Dio lo so non dire che sei solo un ragazzo perché io ti metterò le parole Mosè quando venne chiamato dice io sono l'endodilina non ho nulla per convincere il faraone Gesù dice che hai cosa è quello un bastone quanti miracoli ha fatto con un bastone in Giovanni quando in Giovanni 6 capitolo 6 versetto 9 quando fece la moltiplicazione dei pani e dei pesci da dove iniziò il miracolo da un bambino un ragazzino dice che hai cinque pani e due pesci vieni qua quindi quando Gesù ci chiama lo sa la nostra condizione i nostri limiti ma se ci mettiamo nelle sue mani Gesù rivoluzionerà il razionale quindi l'impossibile in possibile perché cinque panni e due pesci non hanno fatto sette alimenti se leggiamo la parola ha sfumato migliaia di persone quindi con Gesù la matematica è un'opinione veramente perché riesce a fare cose incredibili noi discepoli dobbiamo dare con generosità e con gioia quindi senza malavoglia quindi lo dice anche in secondo corinti nove sette il signore ci manda e ci raccomanda quindi questa è una bella una bella cosa da ricordarci che quando siamo insicuri nel fare le cose quando siamo insicuri di parlare a una persona del signore perché magari siamo timorosi magari siamo ci sentiamo mancanti sappi che ti sta mandando il signore e ti sta raccomandando perché nella parola di dio c'è scritto che non è colui che si raccomanda da sé che è approvato ma colui che il signore raccomanda leggete secondo corinti 10-18 leggete ezechiele capitolo 3 versetto 4 fino al 9 leggete anche giudici capitolo 6 dall'11 al 16 poi con la registrazione magari vi risentite questi versi e ve li leggete perché sono un incoraggiamento se vuoi fare il discepolo devi appropriarti di certe parole ti consiglio anche di scriverteli appenderle in camera rileggile quando hai bisogno perché sono veramente un tocca sana per l'anima e poi abbiamo Efesini 2.10 che dice egli il signore prepara ogni cosa per compiere l'opera sua non ti preoccupare delle montagne perché se il signore ha deciso che devi passare attraverso la montagna o la fa sparire o la butta giù non ti preoccupare noi facciamo quello che la nostra mano può fare l'impossibile è lo far signore e poi andiamo alla parte diciamo finale di questo studio che è un po' il nocciolo di quello che uno si chiede ma qual è il premio di tutto ciò ovviamente chi ha accettato il signore già lo sa però voglio voglio citare alcuni diciamo alcuni premi uno dei premi più importanti che Dio ci dà è che è incorrottibile quindi non può essere corrotto è una corona è una corona che è la corona della vita sia in primo corinzi 9 25 ma sia anche in marco 10 30 dice che il signore ci darà la corona incorrottibile e la vita eterna con lui quindi se da una parte c'è una vita dannata da un'altra parte è una vita eterna e ci dice il signore che tutto quello che noi abbiamo dato Dio ce lo renderà cento volte tanto marco 10 30 e Dio continua a parlare e ci dice non ti preoccupare no in Matteo 25 23 dice che se sei stato fedele in poca cosa io ti costituirò su grandi cose quando parla servo buono è fedele dice proprio queste parole quindi magari quello che fai per il signore ti sembra poco non ti preoccupare Dio ti costituirà su grandi cose e su il signore possiamo stare sicuri perché egli è veritiero egli non cambia quindi in conclusione diciamo i passi necessari per riconoscersi come vero discepolo di Gesù Cristo il mazzareno li possiamo identificare in sette passi il primo credi nel signore Gesù Cristo il secondo diventa suo discepolo e apprendi cosa ha insegnato Gesù il terzo obbedisce agli insegnamenti di Gesù e vivili quindi non vale la cosa fai quello che ti dico ma non fare quello che faccio no noi ci scherziamo su questa cosa ma in realtà è antibibblica vivi gli insegnamenti equipaggiati e preparati per poter andare a cercare altri affinché diventano discepoli quindi grande mandato vai e trova altri che vogliono diventare discepoli per vivere come Gesù insegna loro a obbedire a ciò che ha insegnato Gesù mi raccomando quando parliamo del signore parliamo della veriticità della parola non addolciamo la parola non camuffiamola non creiamo artefatti non creiamo delle censure siamo veritieri della parola di Dio la parola di Dio non ha bisogno che noi la difendiamo la parola di Dio si difende da sé se c'è qualcosa che non capiamo e che ci troviamo in difficoltà Dio ha dato i ministri c'è anche un ministerio specifico che sono i dottori della legge ne conosco uno e ringrazio il signore perché veramente è disponibilissimo che hanno proprio il dono specifico di non solo comprendere la parola ma anche di spiegarla quindi riconosciamo quello che Dio ha stabilito tutti i ministeri e l'ultimo punto è di preparare e andare a cercare altri che potrebbero diventare i discepoli di Gesù beh qua si parla poi del discepolato ma non è l'argomento ragazzi adesso io chiudo ci sono domande dubbi perplessità chiedetemi pure